Quello che era il quartiere più bello realizzato nell'ultimo decennio adesso è un disastro ambientale. Qui si rischia veramente la piena emergenza non solo ecologica ma anche sanitaria. Siamo a 50 metri dalle villette, dalle abitazioni dove per fortuna ci sono numerosi bambini, numerose famiglie che vivono in mezzo a questo disastro. Eternit, rifiuti speciali, pneumatici, spazzatura di ogni tipo e di ogni genere e soprattutto pericolosa come rifiuti speciali e anche vetri. Quindi qualcosa bisogna fare perché qui ci abitano le famiglie, ci abitano dei ragazzini e soprattutto c'è qualche genio che poi alla fine, come in tutto il territorio, danno fuoco a questa spazzatura e quindi tutte le sere si respira di Ossinia. Vittoria veramente in piena emergenza di spazzatura, qualsiasi angolo della strada e delle periferie c'è spazzatura dappertutto, quindi bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire al più presto. È da giugno che chiedo che questo quartiere venga attenzionato ma nulla è cambiato. Il prossimo passo sarà rivolgerci al prefetto, sarà rivolgerci ad autorità ancora più in alto perché non è possibile che non si sia fatto un minimo di intervento che invece le passate amministrazioni hanno fatto. Qui veramente si rischia la salute, la salute dei cittadini e la cosa è parecchio grave.